e allora siamo al minuto 86 di Cagliari Napoli risultato 0-1 una partita sicuramente non bella dove la paura l'ha fatta da padrona adesso in questo momento il Cagliari sta provando in ogni modo perché poi anche forse complice la stanchezza del Napoli che in questo video sta giocando partite su partite e devo dire si sta riconquistando comunque il posto che tutto sommato gli spetta per quello che era stata la costruzione e la preparazione di questa squadra inizio anno stupiva il fatto che stesse così in basso ma chiaramente questa è una squadra che merita ben altre posizioni e in questo momento con questa vittoria mi scavalca tra l'altro proprio il Cagliari che invece è in pratica da fine anno che è in involuzione e la scavalca va se non sbaglio a 33 punti quindi ha solo due punti dalla coppia Verona-Parma che se non sbaglio stanno a 35 tutte e due però comunque non ho visto la classifica potrei dirvi una cosa o un'altra ma sicuramente il Napoli si sta rifacendo sotto per quanto riguarda la zona Europa League quindi dicevo partita dominata dalla paura soprattutto nel primo tempo poche le occasioni in porta io ricordo ecco un tiro di Zielinski tutti i tivi da fuori un tiro di Pellegrini che si accentra diciamo da sinistra si accentra sul destro in tira un altro tiro del Cagliari poco fa non so se di Ionita non ricordo perché poi sto guardando la partita senza audio perché c'ho un problema che se non attacco vabbè sto a spiegare insomma i miei problemi tecnici con questa partita ma soprattutto la bellezza è il gol di Mertens che fa una delle sue classiche magie io non capisco come un giocatore così dopo il depauperamento del Napoli di questi anni insomma dai guaini in poi chiaramente il Napoli perdendo vari pezzi tra cui Ciorginia c'è piano piano si è indebolita sempre di più ma un giocatore come Mertens va rinnovato subito e dovrebbe per quello che ha dato a Napoli chiudere la carriera con questa squadra ovviamente le altre squadre si si fregano le mani tra cui se non sbaglio anche la Roma che sarebbe interessata a lui nel caso non rinnovasse ma io credo insomma che se il Napoli facesse un'offerta giusta a questo calciatore lui prediliga ovviamente dia priorità al Napoli ci mancherebbe e in pratica ecco la partita è stata vinta o comunque ancora non è finita la sta vincendo il Napoli grazie a questa magia perché per il resto insomma non è stata assolutamente una bella gara sicuramente il Napoli ha meritato qualcosa in più attenzione adesso il tiro deviato che finisce il calcio in angolo il Napoli sicuramente ha dato qualche cosa in più sia come spinta sia come possesso palla ma poco di più comunque siamo lì è stata una partita equilibrata bruttina ripeto adesso attendiamo insomma siamo al novantesimo attendiamo il recupero e poi andiamo in chiusura allora fa soltanto un'annotazione di tipo cromatico allora io impedirei al Napoli di giocare con questa maglia perché ragazzi se vede soltanto il numero e i scarpini che ce l'abbianchi cioè si confonde in mezzo all'erba che chiaramente per per l'arbitro non tanto per il bar ma per l'arbitro in campo diventa una situazione insostenibile proprio a livello cromatico cioè se vedono i calciatori se vedono se non fosse la testa nera e il numero bianco non si vedrebbero per quanto invece riguarda il Cagliari io capisco che è una maglia storica per capità può a piacere non piacere quello che volete però ho letto siccome questa nuova regola che entra in BQM dal prossimo anno dove tutti dovranno avere lo stesso fonte per la maglia e per il cognome del calciatore perché cioè i numeri così non si leggono ragazzi in questa maglia storica del Cagliari sono scritti tipo a penna ma pure da uno che gli tremava la mano cioè non non se leggono i numeri non è possibile dai cioè bisogna bisogna uniformarsi purtroppo dispiace dispiace perché poi la bellezza delle maglie la personalizzazione sta anche nel numero nel fonte anche quest'anno vedete la Roma c'ha dei fonte particolari eccetera però a volte diventa veramente difficoltoso leggere siccome i numeri devono essere letti dall'arbitro e devono essere leggibili cioè quelli del Cagliari stasera sono schicchi a penna non può essere comunque siamo al 92esimo ancora non è successo nulla la palla ristagna a centro campo ci aggiorniamo a fra poco ci ha riprovato proprio qualche secondo fa a Mertens con un altro tiro a giro dopo un assist di Politano che comunque sta giocando una buona gara io la partita l'ho vista a tratti ho visto tratti di primo tempo tratti di secondo tempo ho avuto la fortuna di assistere al gol in diretta un gol stupendo pazzesco da parte di Mertens ma tra l'altro ci ha abituato a queste delizie per cui non è che mi non è che mi dico cazzo non è che mi non mi dia la parola comunque va bene non è che mi sconvolgo più di tanto perché sono abituato che Mertens fa questo genere di gol cioè è assolutamente normale siamo al 93esimo e non è successo ancora nulla tranne questo tiro di Mertens e finisce quindi la gara il Napoli si aggiudica questi tre punti importanti che consentono di superare proprio il Cagliari di Marano grazie a tutti grazie a tutti